ciao sono Bruno di Segema in questo video oggi analizziamo la differenza fra operatori per cancelli 24 volt con encoder e senza da molti anni ormai i produttori incorporano il sistema antischiacciamento all'interno dei propri sistemi questo per agevolare l'installatore nella messa a norma dei cancelli automatici perché il requisito dell'antischiacciamento è una delle priorità che si devono adempiere quando si installa un cancello automatico diversi produttori però decidono di realizzare questo sistema con tecnologie diverse chi si affida alla tecnologia encoder e chi si affida alla tecnologia quella che viene definita amperostop vediamo quest'ultima per prima allora la tecnologia amperostop funziona in maniera molto semplice quando il motore fa la sua manovra di apprendimento corsa la centralina rileva quant'è l'assorbimento diciamo meglio di quel motore quando durante il movimento normale la centralina rileva un picco di corrente significa che il motore è stato bloccato e quindi fa intervenire il sistema di antischiacciamento logicamente questa soglia non può essere molto bassa perché altrimenti il cancello si fermerebbe in continuazione e quindi algoritmi diversi di produttori diversi utilizzano sistemi più o meno sofisticati per rilevare questi picchi nella tecnologia encoder invece funziona tutto in maniera totalmente diversa c'è un dispositivo appunto l'encoder sul motore in pratica durante la manovra di apprendimento corsa si rilevano i giri del motore quando questi qua diminuiscono significa che il motore è stato bloccato da un ostacolo e quindi si fa intervenire il dispositivo antischiacciamento noi sicuramente preferiamo la tecnologia encoder perché perché è sicuramente più precisa in quanto non subisce delle variazioni anche in base a fattori climatici ad esempio nella tecnologia però stop su molte istruzioni di alcuni produttori si scrive che la manovra di apprendimento va fatta con un motore freddo questo perché perché il calore fa alterare l'assorbimento del motore e quindi farebbe alterare anche l'apprendimento della centralina questo significa che a differenti temperature il motore ha un assorbimento diverso e questo è molto difficile da gestire per le centraline quindi cosa si fa si fa normalmente si mette una soglia molto più alta e quindi l'impatto del cancello è molto più forte prima che intervenga l'alti schiacciamento nella tecnologia encoder questi problemi non ci sono perché si rilevano i giri effettivi del motore che sono sempre quelli sia che faccia caldo che faccia freddo in più gli encoder della gbd che è la casa che utilizziamo noi sono magnetici quindi che cosa significa che a differenza degli encoder ad esempio ottici non si possono sporcare non serviscono alterazioni nel tempo e non si usurano quindi l'encoder come nasce in fabbrica arriva alla fine della vita del motore allora perché c'è questa differenza di utilizzo delle tecnologie è perché ogni prodotto ne sceglie i propri clienti utilizzare la tecnologia per lo stop richiede solamente due fili quelli di alimentazione del motore e nell'ottica del file da te è molto più semplice l'installazione mentre utilizzare l'encoder richiede più fili richiede anche un'attenta verifica del cancello perché il cancello si deve muovere meccanicamente anche bene e questo qua permette anche di settare delle registrazioni sulla centralina molto più precise cosa che fa un professionista è molto più difficile avviene nel campo del fai da te oppure dell'installatore occasionale questa differenza tra tecnologia encoder e tecnologia 24 volte però stop è solo una delle poche differenze che ci sono tra prodotti professionali e prodotti meno professionali che non significa che siano meno buoni ma significa solo che sono rivolti a un pubblico meno esperto e che quindi permettono dei settaggi un po più rudimentali se vuoi approfondire tutte le differenze che ci sono tra prodotti professionali e meno puoi venirci a trovare se sei nella zona di roma via quarto sant'antonio 48 a marino siamo sull'upper con l'aeroporto di ciampino oppure puoi visitare il nostro sito se gemma.rm.it ciao al prossimo video ciao 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 ciao